Stivaletta e Leonetti regalano i tre punti a Lavastese contro un Castelfidardo a cui non è bastata la bellissima rete di Calabrese. In rimonta Lavastese torna alla vittoria, ma lo fa con tanta sofferenza. Nei Biancorossi fuori Giampaolo per infortunio, al suo posto Shiba in panchina gli ultimi arrivati con i Mataloni. Nei Marchigiani assenti Bellucci, Radi, Severini e Pigini per la squalifica. Ospiti a caccia disperata di punti salvezza vista la posizione in classifica. Passiamo alla cronaca. Dopo i primi minuti iniziali di studio, la prima conclusione dei padroni di casa. Leonetti lavora un buon pallone sulla tre quarti e calcia dalla distanza. Bene la preparazione, ma la conclusione è debole e centrale. La gara non regala grandi emozioni. Al ventiduesimo Fiore controlla e calcia da posizione favorevole, palla deviata in angolo. Al ventiquattresimo primo tiro della partita per il Castelfidardo. Calabrese dopo un triangolo entra in aria e calcia. Bravo Selva a disinnescare la conclusione ravvicinata. Marchigiani nuovamente pericolosi al ventisettesimo. Rivi taglia fuori del Duca e incrocia. Palla larga, Mavastese messa male. Al trentaquattresimo palla gol clamorosa per i Biancorossi. Palestini calcia di controbalzo dal limite. Barbato è straordinario a dirgli di no. Sugli sviluppi dell'azione Fiore calcia a giro di sinistro. La sfera non esce distante dalla porta dell'estremo ospite. Al minuto trentasei passa il Castelfidardo. Calabrese dalla distanza disegna una parabola velenosa su cui Selva non può nulla. Da rivedere a rallinti il gesto tecnico del numero 10 in maglia bianca. Si va a riposo con questo risultato. Ad avvio ripresa Montani corre ai ripari fuori da Alessandro e dentro Stivaletta. Mossa che si rivelerà fondamentale per l'economia della gara. Alla terzo minuto è proprio sua la prima conclusione della secondo tempo. Palla a lato. Minuto 11. Sbardella corregge di testa una spizzata di un compagno. Barbato si salva ancora. Lavastese mantiene alta la pressione. Alla quindicesimo Shiba in corna di testa. Si salva ancora il portiere ospite migliore dei suoi fino ad ora. Alla sedicesimo i bianco-rossi trovano il meritato pareggio. Torsione di testa di Stivaletta che si insacca sul palo lontano. Uno a uno. Di rara fattura il gol del centrocampista da rivedere a rallinti. Il Castelfidardo accusa il colpo e al ventiduesimo arriva il sorpasso. E Leonetti che indovina il tocco giusto per scavalcare l'estremo marchigiano. Due a uno per l'attaccante barese e la decima rete stagionale. Al minuto 25 su punizione capellupo dall'illusione del gol. Ma la palla va a lato. La reazione degli ospiti è affidata a una conclusione di massi al trentunesimo. Tutto facile per Selva che blocca in sicurezza. Al trentottesimo si coordina dalla distanza di Lollo. Tutto facile ancora per l'estremo di casa. Da qui alla fine non ci saranno altre azioni pericolose. E dopo quattro minuti di recupero la vastese può tirare un sospiro di sollievo. E riprendere la sua corsa verso le zone tranquille della classifica. Bene il Castelfidardo che all'Aragona ha venduto cara la pelle. Mister Vagnoni un buon Castelfidardo. Poi nella ripresa è uscito fuori la vastese. Sì, ho detto il quarto d'ora. Ma al primo tempo secondo me c'erano due gol di differenza. Purtroppo quando poi, ho detto anche prima, non fai la scelta sbagliata. Siamo arrivati dentro l'area 3 contro 3, 4 contro 3, 3 contro 2 almeno 4-5 volte. Facciamo la scelta sbagliata. Questa è una partita del primo tempo. Devi almeno, ti ho detto, stare con due gol di scarto. Perché poi il ritorno della vastese ce l'aspettavamo. Ma la squadra ha fatto una scelta sbagliata all'inizio del primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo abbassati da chitto senza motivo. Avevamo preparato invece la partita a tenere la squadra altissima. Perché poi se difendi la porta non la palla. Questa è una squadra che è con Leonetti, Fiore, Sciba. Poi è entrato anche Stivaletta. È una squadra anche fisica. Abbiamo concesso diverse situazioni da palla inattiva. Poi abbiamo preso i gol da lì. Poi l'Indusenma ha fatto la differenza. Poi quando abbiamo cercato di andare a riprendere abbiamo creato anche delle situazioni. Ma se tu vai a vedere, per assurdo, la squadra all'inizio del secondo tempo era come il primo tempo, messa bene in campo. Stavamo giocando un 4-3-1-2 molto ordinato. Se vai a vedere invece, presi due gol. Abbiamo riscatato tutto per tutto, con Giovagnoli avanti, messi malissimo praticamente per cercare di recuperare. Non abbiamo subito un'azione da gol. Questo è evidenza che la testa fa la differenza. Pino De Filippis, una vastese che è partita male contro il Castelfidardo. Poi i cambi vi hanno dato una mano? Beh, sicuramente. Non dimentichiamoci che abbiamo incontrato un avversario scorbutico, ben messo in campo. Però, insomma, a noi era troppo importante, erano fondamentali ottenere questi tre punti. E nel secondo tempo, secondo me, abbiamo meritato. Una vastese che è a posto così o manca ancora qualcosina? Ma, come ho detto poco fa ai tuoi colleghi, siamo attenti. Venerdì termina questa prima fase di mercato, poi aprirà quello degli svincolati. Vediamo un pochettino che cosa succede, però abbiamo le idee ben chiare su quello che dovremmo fare. Erano importanti questi tre punti? La vastese venivano da due sconfitte consecutive. Sì, erano importanti due sconfitte. La prima, secondo me, con Giulianova, immeritata. Poi a Cesena, secondo me, ci sta a perdere. Anche se abbiamo giocato colpo su colpo, abbiamo ribattuto. Oggi era fondamentale ottenere questi tre punti. Perché la prima cosa era, noi ormai dobbiamo guardare agli avversari che ci stanno dietro. Era uno sconto diretto. Queste partite valgono il doppio. Continuiamo a vivere così. Adesso già domenica abbiamo un'altra partita difficilissima da Vezzano. Poi c'è l'Agnone. Così termina questo girone di andata e poi faremo un pochettino il resoconto.